Da oggi fino al 3 maggio è in corso di svolgimento un meeting relativo al progetto Erasmo Positive World. Presenti diversi insegnanti provenienti da sei paesi europei, Francia, Regno Unito, Svezia, Spagna, Belgio e Italia. Tema del progetto, agire in modo positivo per pensare all'economia, all'ambiente, alla scuola, alla società in maniera diversa. Presente anche Julia Bosuema, proveniente dal Sudafrica, autrice di diverse opere realizzate con materiale di recupero nell'ottica del riciclo creativo. L'eco artista ha coinvolto alunni e professori illustrando il progetto in lingua inglese.